Ciao carissimi, oggi vi racconto come si sono sviluppate le situazioni attorno all'esplosione sul ponte di Crimea. Io ho questa idea, questa visione un po' forse particolare, ma mi sembra che questo è stato un attentato comodo a tutti. Adesso mi spiego, poi dopo vi racconterò cosa è accaduto, ma guardando le affermazioni, guardando quello che dicono diversi politici di diverse fazioni, sembra che questa esplosione ha servito a russi, i russi adesso hanno reagito abbastanza, insomma, per ora duramente, e se le loro dichiarazioni così dure si trasformeranno anche nelle altrettanto dure azioni, si può dire che questa esplosione del ponte ha servito a russi per slegare ulteriormente a loro le mani nella guerra contro l'Ucraina, perché il problema principale ovviamente per loro è giustificare certo tipo di azioni. Adesso loro queste giustificazioni ce l'hanno. Dall'altro canto ci sono gli ucraini, che si trovano in una situazione abbastanza complicata, perché loro non possono più da parecchio tempo di parlare apertamente di qualche successo sul campo di battaglia. Non ci sono i successi, gli ucraini non ottengono nessun tipo di positività per il loro esercito, per la loro strategia, loro prendono batoste ovunque. Dopo il summit di Vilnius è chiaro che è cambiata la situazione per loro in maniera molto drastica, loro credevano che la NATO aprirà le porte, loro entreranno lì e subito su di loro cadranno miliardi di soldi, armi e tutto quanto. Invece, come altro giorno hanno affermato gli stessi americani, l'aiuto degli Stati Uniti d'America all'Ucraina sarà diminuito sia l'aiuto finanziario che quello militare, e questo è normale, perché Stati Uniti d'America finiscono anche loro sia soldi e le armi, ormai non ce l'hanno più. Le munizioni da 155 mm loro hanno esaurito, hanno dovuto agli ucraini a mandare quelli a grappolo che sono proibiti, andando tra l'altro contro quelli che sono i principi di loro stessi, gli Stati Uniti d'America. Comunque, in tutta questa situazione, pare che questa esplosione sul ponte è una specie di boccata d'aria, perdonatemi, ma a livello di tranelli geopolitici è questo. Aspettavano tutti un evento che porta l'attenzione verso qualcosa di diverso, se non ciò che sta accadendo in prima linea, sfortune degli ucraini, e ovviamente i russi aspettavano qualcosa per poter applicare le politiche un po' più dure. Anche l'Occidente era molto interessato di combinare qualcosa del genere, perché l'Occidente voleva usare qualche leva, almeno una leva in questo senso terroristica, a questo punto, se non funziona la leva dell'esercito ucraino, per costringere i russi di bloccare la loro idea di non prolungare l'accordo sul grano. Quindi le occidentali hanno detto, noi li minaceremo, noi li facciamo capire che siamo in grado di far saltare per aria il ponte, e loro si spaventeranno, faranno retromarcia e ripenseranno sul prolungamento di questo accordo sul grano. Quindi è un attentato stranamente comodo a tutti. Però vediamo cosa hanno detto i grandi politici rappresentanti della Russia, perché ieri abbiamo sentito quello che hanno detto gli ucraini, abbiamo sentito quello che hanno detto alcuni esponenti occidentali, si è espresso Putin intanto, e Putin ha detto che questa è una, lui ha parlato dell'ennesimo attentato terroristico di Kiev, un crimine tra l'altro inutile, perché il ponte non veniva usato da molto tempo per fare la logistica militare. Su questo ponte giravano solo i civili, non c'erano materiali militari. Lui inoltre ha detto che la risposta sicuramente sarà molto dura, lui ha detto noi stiamo già preparando una risposta, che il ministero della difesa lavora sui piani per rispondere a questo attentato terroristico. E qua già si parla che i russi hanno praticamente deciso di usare questo attentato terroristico per intensificare probabilmente le loro operazioni sul territorio dell'Ucraina, ovviamente sotto controllo del governo di Kiev. È chiaro che utilizzeranno l'aviazione, è chiaro che probabilmente aumenteranno i colpi contro le infrastrutture sul territorio dell'Ucraina che si trova sotto controllo di Kiev. questo possono fare. Io non penso che si tratta di qualcosa di diverso, ma chissà, ad esempio l'ex presidente della Russia e adesso il vice capo del Consiglio di Sicurezza della Russia, Dmitry Medvedev, ha fatto una dichiarazione molto più agguerita, molto più accattivante e anche preoccupante rispetto al presidente russo Putin. Medvedev ha parlato del fatto che l'esperienza internazionale, intanto lui ha condannato questo attentato, ha detto che chi lo ha fatto sono i terroristi, questo non è una guerra, questo non sono militari, sono dei terroristi come terroristi vengono trattati. E poi lui dopo ha spiegato che cos'è secondo lui questo trattamento dei terroristi, lui ha detto che l'esperienza internazionale della lotta contro il terrorismo ci dimostra che i terroristi comprendono solo e soltanto, unicamente il linguaggio della forza. con loro è impossibile parlare in modo diverso, impossibile fare gli accordi, è impossibile con loro fare delle trattative, parlare di pace, bisogna solo usare la forza affinché questi non vengono eliminati. E lui è andato avanti, lui ha detto che bisogna far esplodere le loro case, bisogna far esplodere le case dei loro parenti, così che tutti capiscono che non solo fare terrorismo vi porta alla morte, ma anche semplicemente essere parenti dei terroristi, in qualche maniera assecondarli in quello che loro fanno, e punito con la morte. Cioè Medvedev in questo è stato veramente cattivo ieri, lui ha fatto ancora una serie di dichiarazioni dopo, lui ha detto che bisogna cercare i collaboratori dei terroristi, bisogna cercare le persone che sui social esaltano le loro gesta, e con tutta questa gente non bisogna agire usando i metodi giudiziari. Cioè, in pratica Medvedev ha dichiarato che bisogna fare una guerra diretta, senza utilizzare le leggi, senza utilizzare le regole, in pratica massacrare, ammazzare terroristi, i loro familiari, e anche le persone che le sopportano addirittura solo e soltanto in rete. Cioè, hai pubblicato un post con attentato terroristico, dicendo sì, è bello, avete fatto bene, continuate così, secondo Medvedev meriti la morte. Questa è in grande linea la ritorica di Medvedev, per questo io ho detto che è andato giù pesantissimo. Inoltre lui ha concluso il suo discorso con una, a mio avviso, brutale affermazione. Lui ha detto che la cosa più importante, lui ha detto, è eliminare i capi delle formazioni terroristiche, cioè persone che prendono le decisioni, che prendono la responsabilità di quello che fanno poi gli altri. E quindi lui ha detto, noi dobbiamo stanare questi odiosi insetti da quei buchi dove loro si sono infilati. E questo, secondo me, ci dà l'idea di quello che può essere anche una risposta dei russi. Se i russi decideranno di usare l'aviazione per colpire i luoghi dove vengono prese le decisioni, è chiaro che verranno colpiti i luoghi dove si trova il potere di Kiev. probabilmente colperanno, come hanno già fatto nel passato, tra l'altro gli uffici dei servizi segreti militari, colperanno magari le case, i palazzi dove abitano questi funzionari e così via. Io non so niente di certo, io solo cerco di ragionare in base a quello che ha condiviso Medvedev e quello che precedentemente ha detto Putin. E se loro fanno così, se loro utilizzeranno missili, utilizzeranno droni, utilizzeranno tutto quello che ha l'aviazione russa per fare questo tipo di guerra contro l'apparato decisionale del regime di Kiev, sicuramente questa sarà la prima volta quando la Russia e Putin personalmente andranno contro la promessa che lui aveva dato a diversi leader occidentali, ad esempio per primo è stato il premier israeliano al quale Putin ha promesso di non ammazzare Zelensky. Quando Zelensky stava per fuggire da Kiev perché aveva capito che arriva la fine e tutto quello che lui ha combinato ormai è arrivato il momento di pagare per tutto questo, è arrivato il premier israeliano, l'ha tranquillizzato, ha detto non ti preoccupare, ho parlato con Putin, Putin ha detto che non ti ucciderà. E quindi Zelensky si è trasformato nell'eroe come ha raccontato lo stesso premier israeliano e ha cominciato la sua attività, ha cominciato a mandare la guerra più avanti. Probabilmente adesso, dopo questa situazione, ripenserà Putin o chi gli sta vicino a questa grave situazione, a questo motivo che potrà slegare le mani e probabilmente potranno colpire pure Zelensky. Vediamo, questi sono solo i miei pensieri perché quando noi ascoltiamo quello che dicono i russi, sapete il problema nostro italiano è che da noi, intanto non raccontano, non fanno spiegare che cosa dicono i leader e i rappresentanti della Russia, raccontano qualche trafiletto, tutto stravolto e voi non riuscite a capire che cosa veramente loro intendevano. Mentre io cerco di portare a voi tutto quello che dicono questi personaggi, cercando anche di ragionare insieme su quali sono i significati delle loro parole. Inoltre, mentre Putin e Medvedev si esprimeva su queste probabili risposte vendicative o non so in che altro modo chiamarli per l'esplosione del ponte, il portavoce di Presidente Putin, Dmitry Peskov, ha fatto un'affermazione ufficiale riguardo l'accordo sul grano, ovvero Peskov ufficialmente ha detto fine, l'accordo sul grano è finito. Noi non lo prolunghiamo, la Russia ristaura lo spazio di pericolo militare su tutta la zona di Mar Nero, prende sotto controllo le acque territoriali, quindi qualsiasi nave si avvicinerà, qualsiasi attività verranno bombardati, verranno distrutti. Per cui niente accordo sul grano, niente giro e traffico nel Mar Nero, ciao, basta. Questo ha detto in grande linea Peskov. Su questo, ovviamente, subito si sono espresse anche le parti occidentali, sono partite diverse narrazioni occidentali molto simili a quelle che erano già prima, quando i russi hanno preso nella tenaglia il Mar Nero. E' divertente perché raccontano le stesse bagianate. In pratica, il canale Sky News, ho guardato ieri sera un piccolo pezzo, ho guardato il loro notiziario in inglese, in pratica loro stanno dicendo che ecco adesso, per colpa dei russi, l'Africa soffre la fame, in Africa non c'è niente da mangiare, i russi di nuovo stanno bloccando il grano. Tutta questa ritorica totalmente falsa, perché ormai tutti noi sappiamo, perché fior dei giornalisti, anche il giornalista americano, Selmer Hirsch, si è espresso sul fatto che in Africa arrivano solo 3% del grano che parte dell'Ucraina. Il resto serve alle multinazionali per continuare a speculare e per continuare a mettere in difficoltà i produttori, gli agricoltori dell'Europa occidentale. Il grano dell'Ucraina serve agli americani come l'arma contro l'agricoltura dell'Europa. Questa è una guerra degli Stati Uniti d'America, non contro la Russia, ma contro l'Unione Europea. E attraverso questa guerra, con pretesto di sostenere ucraini nella guerra contro la Russia, gli americani stanno mettendo a K.O. tutta la base industriale, tra quale anche l'agricoltura, dell'Unione Europea. Le multinazionali stanno facendo la piazza pulita. E adesso di nuovo continuano questi scribacchini, questi giornalisti venduti a raccontare le bagianate sulla povera Africa che sta soffrendo perché i russi hanno bloccato un mar nero. Cari amici, l'Africa sta soffrendo perché per centinaia di anni il capitalismo, colonialismo occidentale, la sfruttata e massacrata è trasformata negli schiavi i suoi cittadini e non hanno dato possibilità di svilupparsi neanche a un governo onesto e civile in questo paese. Hanno messo dappertutto criminali, banditi i loro rappresentanti terroristi. e solo di recente l'Africa ha cominciato a liberarsi da questo schifo voluto e dovuto dall'Occidente, specialmente dalle anglosassoni, ma anche dai tedeschi, dai olandesi, anche gli italiani hanno fatto in Africa un piccolo, ma comunque anche loro hanno fatto un loro contributo, francesi tantissimo. Quindi l'Occidente collettivo è colpevole di ciò che succede in Africa da centinaia di anni. E adesso non è un problema del fatto che Putin ha bloccato il porto e l'Odessa, ma figuriamoci, l'Africa sta morendo di fame per altri motivi, non per questo. Comunque, invece, la banda del mainstream occidentale continua a raccontare le bagianate dicendo che le problematiche dell'Africa sono legate al grano ucraino. Quel 3% di grano che va in Africa probabilmente la sfama tutto, non lo so, qualcuno non ha visto la cartina geografica, guardate com'è fatta l'Africa. Sfamare tutto quel territorio con 3% del del grano che arriva dall'Ucraina, ma veramente, veramente ci vogliono raccontare queste bagianate. Veramente in questo modo si capisce che ci trattano come degli imbicilli. Questi giornalisti non hanno, non devono essere ascoltati, non hanno diritto di avere la parola dopo tentativi di spacciare questo tipo di bugie, questo tipo di bagianate. Comunque, pazienza. E nella chiusura vorrei riportare una breve affermazione che ha fatto il professor Masala, un atlantista sfigattato, lui professore della politica internazionale dell'università di Bundeswehr di Monaco, cioè insegna ai futuri militari tedeschi a Monaco, quindi uno secondo me dorme con elmetto di Kaiser a casa sua, non vede l'ora di conquistare la Russia, è famoso per alcune affermazioni idiotiche che ha fatto anche nel passato sulla guerra, sulla fornitura delle armi, un professore che non ha studiato la storia, che non ha capito che prendere quel paese fisicamente è impossibile, non potete conquistarlo perché non vi basta mai, non vi bastano le armi, non vi bastano le persone, cioè finirete voi prima che finiranno i russi, questo non capisce niente, non le interessa niente, lui va avanti con questa sua ritorica guerra fondata, bisogna mandare le armi, bisogna mandare le persone e altro giorno, anzi scusatemi ieri, nella durante l'intervista alla televisione tedesca, questo professor Masala ha detto che il ponte di Crimea è il bersaglio legittimo per gli ucraini, quindi lui ha legittimato questa esplosione del ponte dicendo che si tratta di una struttura bellica, si tratta di una struttura militare, quindi hanno fatto bene di colpire questo ponte, bisogna andare avanti, bisogna tentare altre volte e così via, quindi finché in occidente ci sono questi professor Masala e finché l'occidente continua a seguire questa strada purtroppo la guerra in Ucraina non finirà ma sarà sempre più violenta e a mio avviso finirà comunque con la totale sconfitta dell'Ucraina per un semplice motivo perché stanno finendo gli ucraini, hanno finito le armi, hanno finito le munizioni, adesso stanno finendo le persone e questa è una cosa molto grave verso settembre ottobre ormai si parla del fatto che lì dovranno entrare i polacchi le truppe miste tra polacchi i baltici insomma ormai stanno cercando qualsiasi modo per toppare quei buchi che sicuramente si creeranno quando l'esercito ucraino fallerà totalmente e il momento è abbastanza vicino qualsiasi cosa vi raccontano sono vari esperti di guerra che giocano con videogiochi mangiano la pasta di mamma e bevono caffè di zia pina la realtà oggettiva è totalmente diversa da quella che la propaganda atlantista vuole farvi credere gli ucraini hanno perso questa guerra hanno perso questa guerra un anno fa adesso questa guerra ha perso pure la Nato e adesso hanno finito il materiale hanno finito i mezzi hanno finito i militari ucraini e quindi io credo che questo autunno sarà abbastanza complicato per tutti loro amici con questo io vi saluto vi ringrazio di essere stati qui con me vi ringrazio per la vostra attenzione iscrivetevi per favore al mio canale commentate i miei video quindi vedete i miei video con i vostri contatti vi ricordo che in tutte le librerie d'Italia c'è il mio nuovo libro che si chiama La guerra e l'odio è il terzo libro della trilogia dedicata alla guerra in Ucraina leggetelo fatemi sapere cosa ne pensate vi mando un forte abbraccio e vi voglio bene